Dio ci vuole dare una sapienza vera, profonda, ma ha bisogno di liberarci dalla sapienza di questo mondo. E ricordate come spesso ebbe a dire Gesù, ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, perché così ti è piaciuto. In questo particolare momento sembra che Gesù giubilasse proprio, fosse estremamente contento. E perché? Perché nella sapienza del mondo il mondo non è riuscito a comprendere Cristo, sapienza di Dio. Ecco perché la scrittura dice a Dio è piaciuto di salvare i credenti attraverso la pazzia della predicazione. E tante volte noi abbiamo difficoltà perché siamo in un mondo che si definisce di buonsenso, dove tutti vogliono ragionare, ma tante volte la scrittura ci esorta, se qualcuno si crede savio secondo questo mondo, diventi pazzo. Ma quale pazzia? Ecco perché tante volte si può diventare pazzi, ma questo non porta gloria a Dio. Ma come a dire abbi il coraggio di rimettere in discussione tutte le sue convinzioni. Quindi se qualcuno si sente, come a dire, come si dice in siciliano, un tipo che la sallunga, se qualcuno si sente proprio di avere capito ogni cosa, se qualcuno si sente come di avere compreso i misteri della vita e si sa arrangiare bene, e viviamo in un popolo di arrangiatori, rimetta in discussione tutta questa sua sapienza, tutta questa sua intelligenza, diventi pazzo. Ecco, comprendiamolo. Diventare pazzo significa in qualche modo perdere il contatto con la realtà. E ci saranno dei momenti della tua vita dove avrai l'impressione di impazzire. E dirai, mamma mia, Signore, che mi sta succedendo? Sto impazzendo. Senza sapere che è lo Spirito Santo che sta cercando di distruggere quelle false certezze, quelle false sicurezze che ti hanno fatto apparentemente sopravvivere. Capitelo. Mi viene profondamente questa mattina questo pensiero. Se qualcuno si crede sabio diventi pazzo. Cosa vuol dire? Allora che Dio sta cercando di farci passare dalla nostra sapienza, dalla nostra intelligenza, dalle nostre idee, ad una pazzia. Ma c'è una grande differenza. Mentre la pazzia umana può condurre alla distruzione, può condurre al manicomio. La pazzia di Dio conduce alla sua presenza. Gesù, certamente, parecchie volte fu considerato un pazzo. Perché non agiva del tutto secondo i canoni, secondo i sistemi della vita. E chiunque non va secondo la norma viene considerato anormale. non normale. E questa mattina lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita, nella mia vita, in qualche modo per portarci a un'identità diversa, nuova. Ma per arrivare a un'identità nuova abbiamo bisogno di essere in crisi. e io non mi preoccupo quando un credente mi dice io non capisco più chi sono. Perché so che questo è il lavoro dello Spirito Santo. Perché Dio ci vuole fare scoprire che noi siamo quello che Lui ci ha fatto essere. non le immagini che gli altri ci hanno proiettato. Non le immagini che noi stessi ci siamo creati. Tante volte per le esperienze diverse che tu hai nella tua vita ti formi un'immagine di te stesso. Ti ritieni in una certa maniera. Ti consideri in una certa maniera. Poi arrivano circostanze dove la verità si rivela in maniera diversa. E magari dici mamma mia come sono. Non me l'aspettavo da me. Come mi sono ridotto. Cosa sto pensando. Che pensieri strani. Andiamo in crisi nella nostra immagine. Ma questo è Dio che permette questa crisi. È Dio che permette le difficoltà, le debolezze. Perché? Perché Lui sa che abbiamo bisogno di basarci sulla Sua parola, sulla Sua immagine. Ecco perché non dobbiamo avere paura di diventare deboli. E lo Spirito Santo opera in questa maniera nella nostra vita. È strano. Dice ma come? Fa al contrario. Noi vorremmo più forza. Invece Dio ci indebolisce. Sì, ci indebolisce. Può sembrare strano. Dio ci indebolisce. Perché? Perché vuole farci scoprire la Sua forza. E questa mattina nella mia mente riecheggia un versetto che vorrei così brevemente trasmettervi. Ecco perché credo che noi dovremmo vivere sempre di più, soprattutto nella domenica, questo culto di adorazione dove arriveremo a un certo punto a parlarci gli uni gli altri con canti, con salmi. Anzi, in questo voglio darvi un incoraggiamento a crescere nella partecipazione. Ecco, a comprendere che siamo in un territorio di libertà, dove possiamo esprimere anche le nostre emozioni, dove possiamo entusiasmarci, dove possiamo veramente sentirci come piccoli bambini. E non so se qualcuno di voi si ricorda ancora come sono i piccoli bambini, forse siete diventati troppo grandi e grossi per ricordarvi come sono i piccoli bambini, come sono spontanei, come saltano, come danzano, come riescono realmente a partecipare emozionalmente, fisicamente, totalmente a quello che stanno vivendo. Dio ci sta chiamando a una partecipazione di questo genere. molto più grande di quella che si può avere andando in discoteca, molto più grande che si può avere ascoltando un concerto di Beethoven, di musica classica, molto più grande di quello che si può avere seguendo la partita della propria squadra del cuore, molto più grande. Dio ci sta chiamando a una partecipazione totale, spirito, anima e corpo. Ne possiamo avere certe testimonianze ricordando per esempio la vita di Davide. Ricordate un momento della sua vita nel momento della grande gratitudine a Dio si mette a danzare in una maniera così secondo gli altri scomposta che viene criticato ma lì lui ritorna bambino. lo stesso Davide che altre volte invece si nasconde altre volte fa il pazzo in quel momento è al centro della gloria di Dio e manifesta la gloria di Dio danzando lodando. Quindi dicevo impariamo a venire qui in chiesa soprattutto la domenica per vivere un'esperienza di lode profonda totale dove veramente ci liberiamo dove veramente come piccoli bambini impariamo dove magari possiamo fare anche un giro tondo sembrare strano tante volte mi ricordo nel passato abbiamo fatto dei momenti particolari di lode di adorazione la prossima estate li faremo ma siamo andati per esempio a mare e dopo aver lodato abbiamo cominciato proprio a fare il giro tondo a danzare a cantare nella massima semplicità abbiamo bisogno di ritrovare questa semplicità dei bambini abbiamo bisogno perché Dio si rivela ai piccoli fanciulli quindi quando noi rimaniamo lì tutti concentrati cerebrali bloccati riusciamo a percepire una piccola parte di quello che Dio vuole farci vedere se noi invece riusciamo a lasciare la nostra intelligenza la nostra razionalità e entriamo con lo spirito di piccoli bimbi allora l'unzione dello spirito sarà molto più grande molto più forte e quindi anche se so che hai fatto tanta fatica per diventare grande per non essere più bambina Dio ti sta dicendo io ti voglio fare ritornare bambina in questo senso ti voglio fare diventare piccola fanciulla piccolo bambino perché dalla bocca dei fanciulli dei lattanti hai tratto lode hai tratto lode per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore e allora prepariamoci a questo veniamo con questo spirito di bambini che vanno a un incontro bellissimo dove possono realmente incontrare l'amore del padre e tante volte noi pensiamo ma io non ho più bisogno dell'amore del padre abbiamo bisogno sempre dell'amore del padre abbiamo bisogno sempre di sentirci piccoli e protetti e amati perché quando usciamo nella realtà di ogni giorno dobbiamo lottare dobbiamo combattere e quindi se non impariamo a ricevere la consolazione se non impariamo a ricevere l'approvazione del padre se non ci sentiamo amati carezzati consolati non riusciremo poi a reggere nelle difficoltà quotidiane e dicevo questa mattina un pensiero breve che echeggia nella mia mente e recita così non siate vinti dal male ma ma cosa vincete il male con il bene non siate vinti dal male ma vincete il male con il bene e voglio brevemente sottolineare questa espressione che fortemente ci viene dallo Spirito Santo attraverso la parola di Dio e che troviamo nella vita di Gesù e che troviamo nella vita di tanti uomini di Dio e che troviamo nella vita di Dio stesso perché perché Dio stesso ha deciso di vincere il male con il bene ecco perché ce lo chiede a noi Dio stesso ha deciso di vincere l'uomo di vincere l'uomo con tutto il suo male attraverso l'opera di Cristo il bene supremo dell'universo Dio ha usato questa strategia e direi che questa è la strategia che funziona il diluvio anche se certamente ha cancellato il male sulla terra non ha vinto comprendiamo la vera vittoria è quando conquistiamo l'altro all'amore la vera vittoria non è quella che distrugge l'altro che gli toglie qualche cosa oggi siamo abituati ad un clima dove si combatte e la vittoria corrisponde alla sconfitta dell'altro abbiamo vinto che significa che l'altro ha perso che l'altro è stato distrutto il male viene distrutto ma Dio ha usato un'altra tecnica e io sono contento io sono contento questa mattina che Dio non ha deciso un altro ancora diluvio perché l'uomo sicuramente non aveva nessuna intenzione di cambiare era come una storia che si ripeteva ma io sono contento che Dio ha deciso di vincere il male dell'umanità il male tuo e il male mio attraverso il giusto l'unico giusto Gesù Cristo attraverso Gesù Dio ha vinto il male e come l'ho vinto facendo si che Gesù arrivasse qui e come tante volte sentivamo l'altra volta i discepoli lo incoraggiavano facendo scendere raggi laser distruggendo tutti quelli che la pensavano diversamente no non lo ha vinto in questa maniera ma l'amore di Gesù lo ha fatto vincere sul male e capitemi bene Gesù non amava il diavolo perché tante volte potremmo arrivare a una concezione relativistica dove noi dobbiamo amare le cose cattive no ma noi siamo chiamati a usare delle armi spirituali ecco che possiamo vincere il male con il bene perché Dio ci ha dato un'armatura e qualche volta ci rifletteremo insieme più profondamente ai nefesini armatura spirituale perché c'ha delle ricchezze incredibili ma Dio ci ha fatto essere in maniera tale da poter vincere da poter sconfiggere il male attraverso quello che Lui ci ha dato e questa mattina la domanda che Dio ci fa in maniera molto semplice è come ci difendiamo come cerchiamo di vincere il male come cerchiamo di combattere il male negli altri e in noi come cerchiamo di vincere questa battaglia con cui ogni giorno siamo confrontati come lo facciamo quali armi usiamo quali sistemi usiamo per vincere il male e abbiamo bisogno di chiedercelo questa mattina perché Dio vuole fornirci delle armi nuove se noi non siamo in grado di usare le sue armi Dio vuole fornircele questa mattina vuole darci un arsenale nuovo ecco perché abbiamo bisogno di scoprirle queste armi e grazie a Dio per molti di voi che stanno cominciando a scoprire la potenza che c'è nella intercessione la potenza che c'è nella lode la potenza che c'è nella preghiera in genere la potenza che c'è nella parola la potenza veramente di cui Dio ci ha equipaggiati per non essere sconfitti ma sapete tante volte noi vorremmo usare queste cose sempre con le nostre forze vorremmo usare le cose di Dio con motivazioni umane e non funziona tante volte vorremmo arrabbiarci per esempio contro il diavolo ma non sarà odiando il diavolo non sarà scacciandolo con rabbia che il diavolo andrà via da te ma è l'autorità che lo scaccia mi ricordo tante volte io ero preso e credo che ognuno di voi sarà successo di combattere spiritualmente in lotte accanite per cacciare via il male ed erano le lotte estenuanti che non finivano mai perché perché in qualche modo sembra strano ma tante volte noi combattiamo il male con lo stesso male anche se lo facciamo nel nome di Dio mentre è l'autorità è la fermezza è l'amore non per il demonio ma è l'amore per Dio che poi ti dà fermezza e autorità sul male capite e conoscere Dio ed essere uniti con Lui che poi fa sì che le tue parole e non perché sono delle formule particolari mi ricordo che ai miei tempi si usava il sangue di Gesù o altre formule di vario genere e poi uno cercava tante altre formule per cercare di rendere la preghiera ancora più forte ma non è che questo cambiava l'efficacia non è quante volte nominavamo il sangue di Gesù ma è l'amore per Dio è l'amore la comunione con Dio che fa sì che la tua preghiera ha un effetto ha autorità e vince il male con il bene ecco già cominciamo a scoprire vince il male con il bene che significa significa che Dio vuole che impariamo a reagire al male con le armi che Lui ci ha fornito impariamo a reagire al male non attraverso le nostre emozioni capitemi perché se noi reagiamo con le nostre emozioni le nostre emozioni come sono già ammalate ferite e se noi interagiamo se noi rispondiamo con le nostre emozioni credo che questa è l'esperienza di ogni giorno ogni giorno qualcuno cercherà di farti del male più o meno coscientemente e come reagisci se noi reagiamo con le nostre emozioni e magari in quel momento siamo già seccati siamo amareggiati c'è qualcuno che ci va a pungere proprio in quel momento cosa succede? cosa succede a voi? esplosione ma è qui veramente c'è la vittoria se in quel momento noi stiamo vivendo una comunione con Dio se in quel momento abbiamo lo scudo della fede è una parte fondamentale la corazza della fede i dardi infuocati del maligno non potranno bruciare potranno sì colpirti sentirai ai sentirai un dolore momentaneo ma potrai reagire in una maniera nuova in una maniera spirituale e maniera spirituale significa capacità di non essere coinvolti prima di tutto nel male cioè che il male che ti viene incontro non evoca il male dentro di te perché la trappola più grande del demonio è quella sempre di prendere due tre quattro piccioni con una fava di contagiare il male di contagiare la critica di contagiare l'amarezza non so se vi è successo mai quando viene accanto a voi una persona estremamente critica estremamente così amareggiata e tante volte senza rendermene conto piano 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 cominciate a ricevere la sua amarezza e anziché realmente vincere l'amarezza anziché superare venite contagiati dallo stesso sentimento dallo stesso male che sta prendendo la persona accanto a voi contagio contagio virale però siamo in una fase di grande freddo per noi i virus attaccano di più ma il contagio avviene perché perché in qualche modo le difese immunitarie di ogni persona non sono abbastanza forti e allora basta trovarsi in una circostanza di debolezza di abbattimento per cui il virus del vicino di casa il virus del fratello accanto a te passa da te e allora la sua amarezza diventa la tua amarezza la sua critica diventa la tua critica il suo sospetto diventa il tuo sospetto il suo risentimento diventa il tuo risentimento veniamo coinvolti questo è l'attacco più grande delle forze delle tenebre quello di usare dei sistemi di contagio in maniera tale che il popolo di Dio che la chiesa anziché vivere quella salute meravigliosa spirituale che Dio ci ha dato possa vivere sempre malata e appena finisce il virus dell'amarezza passa il virus del risentimento appena finisce il virus del risentimento viene quello della pigrizia appena finisce quella pigrizia viene quello dell'indolenza che poi è simile e così via viene quello dell'impazienza viene quanti contagi quante malattie e tante volte noi non riusciamo a vincerle ma ne siamo vinti e qui questa mattina è il messaggio che Dio ci dà prima di dire vincete non siate vinti dal male come a dire il male nelle sue varie forme nelle sue varie espressioni cerca di vincervi e ricordate come dice la scrittura ognuno poi diventa schiavo di colui che lo ha vinto quindi se io vengo vinto dell'amarezza se io vengo vinto dal risentimento non sono io che poi domino il risentimento ma il risentimento che domina me questa è l'illusione perché tante volte noi pensiamo di essere noi a pilotare a governare il male è come dire no io prendo un piccolo male lo uso alle dosi che mi serve no caro mio è come avviene nel sistema mafioso tante volte noi pensiamo che in qualche modo possiamo chiedere aiuto e c'è questa logica in cui quando tu hai un problema chiedi aiuto a una persona di un certo genere è così e diciamo mi hai aiutato sì ti hai aiutato però poi in un certo momento quello ti verrà a cercare quindi ti accorgerai che questo aiuto che hai ricevuto dal male e che sembra che ti è servito alla fine in qualche modo ti coinvolgerà e alla fine perché il male poi verrà e ti dirà ma guarda che io ti ho aiutato quindi in qualche modo siamo amici no dice ma io non voglio no siamo amici il male ci si incolla il male vuole prenderci profondamente è come un virus che vuole andare fino al profondo e tante volte grazie a Dio noi cristiani lo viviamo solamente con un'infezione superficiale perché l'azione del demonio vorrebbe andare fino in profondità e conquistare il nostro spirito ma non lo può fare però infetta le nostre menti i nostri sentimenti i nostri pensieri non siate vinti dal male la parola di Dio tuona questa mattina non siate vinti dal male come dire nel momento in cui vi troverete il male davanti e si presenterà sotto varie forme si presenterà sotto la forma di una moglie arrabbiata o di un marito fuori dai gangheri si presenterà sotto la forma dell'amico del cuore che ti giudica si presenterà sotto la forma del fidanzato che ti lascia si presenterà sotto la forma del fratello che non ti capisce del pastore che dice una cosa che tu non capisci sotto varie forme il male ti si presenterà e busserà alla tua porta e ti darà posso entrare ti si presenterà con una paura di una malattia ti si presenterà con tante altre cose in cui il demonio è esperto proprio lui è un manipolatore per eccellenza non per niente è chiamato il principe della menzogna il grande illusionista colui che riesce a trovare una trappola personalizzata per ognuno di noi il male ti si presenterà e la parola di Dio questa mattina ti dice figlio mio io ti voglio liberare dal male liberaci dal male dice la preghiera per eccellenza liberaci dal male perché perché il male si troverà davanti a te per vincerti e che significa per vincerti per farti diventare schiavo e allora ricordalo questa mattina ricordalo domani dopo domani si presenteranno alla tua porta e suoneranno il campanello quando non butteranno giù la porta perché il male non ha neanche tante delicatezze quando si presenta non dice permesso butta giù la porta si presenterà l'amarezza e tu cosa dirai amarezza prego accomodati e comincerai ad amareggiarti amareggiarti l'amarezza comincerà si presenterà il risentimento perché tante cose andranno diversamente da come pensavi cosa farai col male del risentimento gli dirai magari ti faccio stare un poco così ma poi se lo fai stare un poco due giorni tre giorni quattro giorni oh sapete è un ospite che non se ne vuole andare poi non è che l'ospite dice viene poi si crea degli scrupoli dice no no sto disturbando troppo me ne vado il male non ha scrupoli capitelo il male non ha scrupoli se trova una strada si infila e sta lì fino a che voi non direte basta fino a che voi non lo sfratterete dalla vostra casa fino a che voi non direte nel nome di Gesù vai via amarezza nel nome di Gesù vai via risentimento nel nome di Gesù vai via spirito di critica nel nome di Gesù vai via depressione paura fino a che voi non lo caccerete non prenderete una posizione chiara sarà il male a fare il bello e il cattivo tempo nella vostra vita e questo male comincerà a condizionarvi perché forse lo avete già scoperto cosa significa essere schiavi di qualche cosa di male non mi succede quando per esempio schiavi del risentimento ce l'avete con qualcuno già cominciate a studiare tutti i percorsi per non incontrare quel tale appena lo incontrate mi nascondete appena tutta la vostra vita comincia a girare intorno a quella cosa e non solo in questo senso anche in senso di cose che ci attirano perché in quel caso per esempio un altro male potrebbe essere l'amore esagerato per il denaro allora tutta la nostra vita in qualche modo viene regolata solamente per vedere come fare più denaro e la parola di Dio ci ricorda che non è il denaro fonte di ogni male ma è l'amore per il denaro che ci può portare a un sacco di mali alcuni che vi si sono dati si sono trafitti di tanti dolori allora capite il nostro accogliere il male in qualche modo ci coinvolge ci domina ci influenza e ci porta realmente a male più grande perché è come una macchia d'olio che si estende e allora quando tu ti sarai amareggiato cercherai qualcun altro a tua volta sono come quelle catene di Sant'Antonio non so se le ricordate che vi scrivevano è così il male è una specie di trappola che va diffondendosi e nel mente che ha vinto te in qualche modo poi trova un altro cerca un altro attraverso di te e allora tu dirai chi posso amareggiare in questo momento allora amareggerai un altro e l'altro ancora un altro e vedrete come tante volte in quella che è una famiglia la Chiesa di Dio questi virus prenderanno senza che ci si renda conto e allora all'esterno magari siamo qui continuiamo a cantare gli stessi canti ma dentro stiamo male ecco perché a un certo punto ci vuole una diagnosi ci vuole lo Spirito Santo che ci faccia vedere oi ragazzi qua mi pare che siete stati vinti dal male siete stati sconfitti dall'amarezza c'è mancanza di perdono avete bisogno di liberarvi da questi punti d'appoggio del male perché se li tenete lì l'infezione diventerà sempre più grave e poi non sarà sufficiente una semplice benedizione poi ci vuole veramente un'opera profonda dello Spirito Santo se lasciamo che certe fortezze che sono debolezze che certe fortezze si formino nella nostra vita ma ricordiamoci che l'Apostolo dice che le nostre armi sono spirituali e che servono a distruggere ogni pensiero e ogni ragionamento che si eleva contro Cristo la sua presenza quindi Dio ci ha dato delle armi per poter distruggere tutti gli accampamenti del nemico nella tua mente e allora questa mattina per concludere se vedi che il nemico si è accampato presso di te con l'amarezza con la tristezza con l'invidia con la gelosia con la lamentela con lo spirito critico non essere vinto dal male ma vinci il male con il bene come vedete questa mattina è un'applicazione diversa io non sto dicendo di andare quella parte che dice se il tuo nemico ha fame dagli da mangiare radunerai sul suo capo ma qui è il male che ci deve prendere il male che si svolge dentro di noi la prima battaglia contro il male la dobbiamo vincere dentro di noi i fratelli noi tante volte pensiamo di vincere all'esterno ma la prima battaglia contro il male va vinta nella nostra vita di ogni giorno se lì noi non vinciamo voglia che poi cerchiamo di fare un sacco di cose ma abbiamo già perso siamo schiavi dell'amarezza se noi non vinciamo l'amarezza possiamo fare la faccia così allegra mentre che ci viene l'ulcera e vedere il fratello dire sì fratello come ti voglio bene e intanto l'ulcera ci prende sempre di più no questa non è vittoria la vittoria è essere liberati dall'amarezza dal risentimento e poter guardare il nostro fratello e la nostra sorella con gli occhi di Dio con degli occhi puri con degli occhi non più dominati allora impariamo fratelli questa mattina nel momento in cui ci sono i sintomi di questo male cerchiamo di levarlo subito cerchiamo di aiutarci subito a levare curiamoci diamoci vitamine a vicenda portiamoci vitamina C vitamina A tutte queste vitamine diamoci stimolanti rinforzanti aiutiamoci usiamo delle prevenzioni stimoliamo il nostro sistema immunitario perché nessuno di noi si ammali e se qualcuno veramente è diventato in un certo momento malato aiutiamolo subito a guarire perché se non guarisce non solo starà a amare lui ma tenderà senza volerlo a contagiare ricordate cosa dice la parola di Dio sia tolta da voi ogni radice di amarezza di crucio e sta dicendo proprio questo dobbiamo imparare a levarle queste radici queste cose perché poi dice la parola perché poi non infettino tutti quanti non si diffonda e diventa un contagio e io questa mattina voglio realmente invocare ci alziamo in piedi e concludiamo voglio invocare la presenza e la potenza di Dio perché ristabilisca il nostro sistema immunitario per cui appena il male viene noi subito cominciamo a fare degli anticorpi non cominciamo a lasciarci vincere dal male e cominciamo viene l'amarezza oh amarezza come sono amareggiato e ti sembra giusto e così ma così doveva fare e così doveva comportarsi e chi si crede di essere e perché è sopra è sotto e non è possibile non va bene e non è così e che vita è e destra e sinistra e sopra e sotto e poi se il diavolo è accanto a te te ne darà una e più ragioni per amareggiarti perché in qualche modo tu stai invitandolo ad aiutarti in quel momento perché stai trovando delle ragioni per stare male vuoi delle ragioni per stare male il demonio te ne darà più di quanto tu non immagini vuoi delle ragioni per stare bene vuoi Gesù è nella tua vita lui è con noi questa mattina e in realtà vincere il male con il bene significa vincere gli attacchi di cui abbiamo parlato scoprendo Cristo dentro di noi scoprendo che Dio ci ha dato una nuova identità a immagine di Cristo quindi non siamo solamente i nostri pensieri tante volte ci lasciamo impressionare mamma mia come sono brutto sono lamentoso sono assurdo non sei questo ti dice il Signore tu sei un essere nuovo meraviglioso come io ti ho creato scoprilo perché solamente con questo bene che io ho messo dentro di te ti dice il Signore vincerai il male che c'è nella tua mente questa è la soluzione scoprendo la pace che ho messo dentro di te ti dirà il Signore vincerai la guerra che c'è nella tua mente scoprendo la gioia vera che io ho messo dentro di te ti dice il Signore vincerai la tristezza che c'è nei tuoi sentimenti scoprendo la forza grandiosa che ho messo nel tuo spirito vincerai la debolezza e la pigrizia che c'è nei tuoi pensieri e nei tuoi sentimenti vincete il male con il bene questo Dio ci chiama a fare e il bene ce l'ha messo Lui dentro il bene è Lui dentro di noi dobbiamo usare questo bene per vincere il male che ci attacca nei sentimenti nei pensieri e poi riusciremo a vincerlo anche all'esterno e questa mattina vogliamo chiederci vogliamo veramente non essere vinti dal male fratelli vogliamo veramente non essere vinti dal male non essere combattuti io vorrei pregare Signore non voglio combattere più il male non lo voglio vedere più il male me ne voglio andare in un pianeta dove non esiste il male non esiste voglio andare in una chiesa dove non ci sono problemi non esiste voglio andare in una società migliore nuova purtroppo non esiste quindi non Signore non vogliamo più vedere il male ma Signore non vogliamo più essere sconfitti dal male e quando lo vedremo venirci incontro servendosi dei nostri sentimenti feriti delle nostre paure dei traumi che abbiamo subito nella vita quotidiana quando lo vedremo venirci incontro noi staremo fermi in Te Signore lo riconosceremo come male e Gli resisteremo stando fermi nella fede ed Egli fuggirà via da noi e l'amarezza fuggirà e il dolore fuggirà e la tristezza e il risentimento e la paura fuggirà perché perché gli opponiamo le cose di Dio la nostra fede ha vinto il mondo ne siamo convinti se possiamo credere siamo più che vincitori e allora vinciamo attraverso la fede il male con il bene che Dio ci ha donato di Dio